ciao ragazzi e benvenuti ancora una volta watching time questa volta vi presento un nuovo orologio di venezianico l'ho acquistato per cui sono diventato un piccolo fan del marchio so che comunque supportano molti canali loro anche per far modere alcuni modelli però ritengo che sia importante anche far notare quello che stanno facendo dove stanno andando ogni volta c'è una sorpresa una sorpresa piacevole diciamo da venezianico abbiamo visto la loro mutazione il loro cambiamento da meccaniche veneziane comunque sono persone giovane che hanno cercato di sviluppare questo marchio dall'inizio e come partendo da un da una idea ben consolidata quella dell'orologio diver del sì bisogna dirlo anche del submariner di una cassa comunque ben conosciuta e che piace a tanti sono riusciti a a far partire un meccanismo un marchio un know how anche italiano a questo punto di orologeria possiamo chiamarli sempre un micro brand penso che a questo punto probabilmente non è giusto nemmeno anche per il numero di produzione che hanno anche per i modelli ed è da riconoscere il cambiamento continuo a migliorare per cui sarei molto curioso nel tempo dove dove andranno mi auguro un giorno ci allontaneremo delle casse di 42 mm probabilmente l'offerta del 40 41 come offerte standard cioè per proprio togliere il 42 dal destino permetterebbe che fosse un marchio da utilizzabile da più polsi mi auguro la cassa si differenzierà ancora di più del submariner questi sono i miei auguri positivi da da appassionato dove va il narrate come modello in particolare di venezianico ma lo dico perché perché indiscutibilmente tende a ricordare a molte persone sempre un po quello del submariner però vedremo in questo modello come ci sono tantissime differenze che che sono da notare e che lo rendono in questo momento uno uno degli orologi che più piacevolmente mi hanno colpito in questo periodo allora innanzitutto parliamo di alcuni nuovi primati che stanno introducendo nel marchio uno è questo nuovo cinturino è un cinturino in tpu e per cui è una gomma sintetica diciamo è un che mi ha sorpreso molto per la cura del dettaglio e come si sposa con la cassa la cassa è quella classica del del nerei abbiamo una cassa che ha queste queste anze che hanno comunque diversi lati per arrivare alla fine e come vedremo qua anche le anze hanno rispettato il proseguito del cinturino e abbiamo una corona protetta abbiamo una resistenza all'acqua comunque di 20 atmosferi sono intorno ai 200 metri e ci si presentano in questa versione nerei un'altra volta riproponiamo la ghiera in tungsteno per cui sicuramente un metallo molto lucido anche nel trattamento ma molto resistente graffi una ghiera che funziona in maniera molto molto buona c'è pochissimo gioco quasi niente il suono come sentite è un bel suono a 120 clic è una ghiera che ha delle rispetto anche se non c'è poi un modo per micro valutare diciamo minuti però rispetta comunque l'indicazione iso da un punto di vista di di diver però in questa versione abbiamo anche una cosa molto particolare ed è l'offerta di un quadrante in avventurine lo chiamo venturine perché il nome in inglese qua sotto nerei troviamo la dicitura venturina con doppia v però chiamiamola venturine anche perché l'avventurina in italiano se fate una ricerca in google vi darà un quarzo un quarzo di diverse colorazioni anche il verde particolare e che ha anche queste caratteristiche della dei piccoli brillantini chiamiamolo così cioè mia moglie dice un orologio perdona no in realtà no ha una particolarità molto piacevole quella dell'avventurina me ha sempre fascinato dai gli omega che lo portavano le speed master in particolare con il moon phase le fassi lunare e il quadrante l'avventurine perché ti ricorda sempre quel cielo estelato a una particolarità l'avventurine che è veramente bello da vedere già a me piace si è ovvio lo rende più quasi te la ridata un gioiello però in questo caso i ragazzi di venezianico hanno diciamo mischiato bene gli elementi ero molto dubitoso quando ho visto le prime immagini della ghiera l'inserto ghiera in tusteno per un semplice motivo è lucido ed avevo paura che l'orologio fosse troppo lucicante avrei proposto magari una versione non lucida della della ghiera avrei magari proposto una versione con un inserto in ceramica blu sarà interessante è un blu oscuro come voi sapete in realtà la ceramica si può lavorare in qualunque colorazione però alcune colorazioni sono molto più commerciali di altre sarebbe interessante giocare un po a volte con le colorazioni del pantone e andare a trovare dei punti di tonalità diversi comunque ritornando al nostro venezianico e hanno avuto una scelta molto positiva di lasciare la cassa satinata penso che questo abbassa tantissimo diciamo la brillantezza che porta già il quadrante con l'avventurine ma anche il tungsteno l'altra cosa positiva del tungsteno devo dire è che al polso riflette così tanto che a volte ti dà la sensazione fosse una ceramica nera perché riprende anche la colorazione di quello che intorno e se intorno è buio di solito anche il tungsteno rifletterà quel buio sembra una banalità quello che sto dicendo però magari se lo provate al polso lo capirete meglio quella oscurità fa cambiare anche la luce magari in alcune situazioni il quello che viene il riflesso nella ghiera diventa parte integrale della colorazione della stessa e lo vedete anche in questa incidenza della luce sotto la telecamera quasi quasi ti dà la sensazione che fosse una ceramica grigia nera quella della lunetta per cui questo lo rende sicuramente interessante va a ridurre un po la brillantezza dello stesso l'indici classici la nuova lancetta dei secondi dei venezianico che a me piace moltissimo la ritrovo molto elegante dal punto di vista di design lancetta spade classiche dei diversi modelli l'ora a ora 3 detta fra noi me la sarei risparmiata soprattutto in questo orologio penso che l'ora c'entra niente io sono un non amante dell'ora della data dell'ora scusate è della data sono un non amante del del anno de della data per cui amante del nord e infatti il mio sommario è preferito il nord e perché da una pulizia del quadrante una semplicità e dall'altra tanto ma che me ne frega della data c'è scusate ma voi andata io non la metto mai c'è andata a vedere veramente la data su loro oggi il 7 dai cioè è veramente inutile e va a complicare secondo me un quadrante che potrebbe essere stato molto più pulito ed elegante in questo caso è l'unico punto negativo che gli avrei fatto notare ai ragazzi era quello di utilizzare un movimento senza data e fare un quadrante semplicemente pulito no data però capisco che ci siano tanti amanti di avere la data e va bene ci può stare anche per loro l'altra cosa che volevo dire è che il cinturino comunque vedete che la caratteristica di questo tipo è satinata con dei punti un po più chiamiamoli luce ma è di plastica un po leggermente lucente rende un po puliscentezza diciamo alla plastica però la questa sensazione un po della dei caramelli di gomma non sembra una banalità però me la da e integrata perfettamente con la casa e mi piace moltissimo la forma e la linea che riprende le ansie è molto comodo devo dire che veramente molto comodo al polso e sicuramente ben ventilato per cui ottima come scelta mi dico non mi hanno raccontato che comunque un materiale di più di origine italiano comunque viene prodotto in italia e alti standard e qualità e che si notano devo dire bene parliamo dell'avventurine brevemente perché sento mi vedo rendendo conto quanto mi dilungo l'avventurine è un materiale che mi piace tanto per la caratteristica che dicevo di sembrare un po un cielo stellato vi faccio vedere questo cellos aurora anche questi li fanno sempre tiratura limitata 200 pezzi in questo caso soprattutto con il quadrante in titanio vi lo farò vedere in un video mi sono scordato sono tanti messi che ce l'ho però è molto particolare e ovviamente si apprezza molto di più nel venezianico che ha un quadrante un po più grande dei 40 mm dello cellos ed è non è altro che un vetro in realtà è un vetro che nasce a venezia per cui ci sta totalmente con con venezianico nasce dai soffiatori di vetri che per errore nel 1700 se non ricordo male include hanno incluso per errore dei frammenti di rame che alla fine quando se se solidificato il vetro ha dato questa colorazione questi punti di di brillantino chiamiamolo così in realtà sono inclusione di piccoli scheggi di rame in questo vetro che in realtà nasce quasi da una colorazione rossa marrone e con la soffiatura con il riscaldamento diventa di questa colorazione blu scuro cielo notturno praticamente che vediamo classico della venturini ripeto un materiale difficile da trattare però che molti marchi orologi si sono buttati come lo cellos a farlo e che e che rende veramente molto particolare l'orologio mi sono divertito ieri portandolo veramente tantissimo che era appena arrivato e come potete vedere in un polso 18,5 mm calza molto ma molto bene bene ragazzi che altro da dire spero che vi sia piaciuto il video che vi piaccia piaccia anche l'orologio non tutti amano magari la percentuale di homage che ha comunque il marchio questo lo capisco però devo dire che riconosco tantissimo il valore del lavoro che stanno facendo delle offerte che stanno dando anche perché un submariner con il quadrante venturino non ho mai visto e anche particolare lo scambierò sicuramente in questi giorni farò qualche foto con il cinturino classico loro nuovo che che ricorda un po quelle linee gira argenta di mettiamola così bene ragazzi un caro saluto un abbraccio a tutti ci vediamo nel prossimo video